Boom di positivi nel Vesuviano. Il numero di contagi continua a salire nella città di Torre del Greco, dove si registra il 95% di positività sui 120 tamponi effettuati nella giornata di ieri. Sono 113 positivi al Covid-19, tutti in forma sintomatica. Numeri vertiginosi che si sommano agli 85 positivi riscontrati sabato. Solo nel weekend, quindi, il bilancio cittadino si è aggravato con 198 cittadini contagiati ed un decesso, un anziano di 92 anni. Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 912, di cui 896 in isolamento domiciliare e 16 sotto regime ospedaliero. 13 i concittadini che hanno perso la vita in questa seconda ondata pandemica. Nella città di Portici si registra un lieve miglioramento della curva di contagi. Registrati 62 nuovi positivi nei giorni 11, 12 e 13 novembre, con una percentuale del 7,87% sui tamponi effettuati. Numeri incoraggianti che attestano una media di 20 contagi al giorno nella scorsa settimana, con il numero di guariti che supera quello dei nuovi positivi garantisce il sindaco Enzo Cuomo. Numeri ancora preoccupanti nella città di Castellammare di Stabbia, registrati il 14 novembre. Sui 376 tamponi eseguiti, 78 nuovi contagiati, di cui 22 presentano sintomi lievi. Il sindaco sottolinea la presenza di un bambino di 3 anni tra i nuovi positivi registrati e 4 ragazzi tra i 12 e 17 anni. Sono 22 le persone guarite. Cordoglio del primo cittadino per la scomparsa, sempre a causa del Covid, di Ciro Irollo, decano degli albergatori stabbiesi. A San Giorgio a Cremano il sindaco Giorgio Zinno piange una ex dipendente comunale scomparsa a causa del Covid-19 nella giornata di ieri. Si registra un ulteriore aumento dei decessi che spingono il sindaco verso una nuova ordinanza. I decessi degli ultimi giorni, insieme all'alto numero di contagiati in città, mi spingono a prendere ulteriori misure per provare a frenare il contagio. Domani firmerò una nuova ordinanza, sentito il centro operativo comunale, che al momento è in fase di redazione. Sale la preoccupazione del primo cittadino di Torre Annunziata, Vincenzo Escione. Registrati 211 nuovi casi, 21 guarigioni e due decessi negli ultimi 20 giorni. Il sindaco, inoltre, ha firmato un nuovo provvedimento che limiterà gli assembramenti nelle zone più frequentate della città. Grazie.